Emma Marrone mezza nuda balla sensuale, il video manda in delirio i fan Emma Marrone ha sedotto tutti i fan con una danza sensualissima sui social. Il suo corpo si muove al ritmo di musica e i fan non possono che commentare e mettere like in massa Emma Marrone è una delle cantanti più amate del panorama della musica italiana, una voce che emoziona e fa battere il cuore ai suoi numerosi fan L'ex insegnante del talent show Amici di Maria De Filippi è amata dal popolo del web non solo per la sua voce che graffia l'anima ma anche per la sua disarmante bellezza Poche ore fa, Emma ha pubblicato sul suo profilo Instagram una storia che ha mandato in delirio i fan. La storia pubblicata da Emma Marrone su Instagram Poche ore fa, l'ex fidanzata di Stefano De Martino ha pubblicato sul suo profilo Instagram una storia che ha mandato in delirio i suoi numerosi fan Emma Marrone ha pensato bene di fare un video in bagno mentre balla in modo sexy e con indosso un vestitino nero molto corto che lascia poco spazio o l'immaginazione del fortunato pubblico maschile. Nella storia, Emma Marrone si dice pronta per il concerto di Radio Italia previsto per stasera La foto che ha fatto sognare i fan di Emma. Poco meno di una settimana fa, l'ex allieva del talent show di Canale 5 ha pubblicato su Instagram una foto che ha fatto impazzire i suoi fan Il motivo? Lo cantante Salentina appare in una posa sexy e con un top davvero trasparente che risalta la sua disarmante bellezza Uno scatto sexy con uno sfondo a tema natalizio, la foto immortala Emma Marrone vicina ad un albero di Natale illuminato da luci blu Tuttavia, ai followers non è sfuggito l'abbigliamento della cantante, in una posa molto sensuale Emma Marrone indossa un top trasparente che risalta il suo seno prosperoso e il suo corpo scultoreo Spesso, la cantante lascia i fan senza parole con questi scatti bollenti Grazie a tutti.